Buongiorno a tutti, questo è un video che continua il discorso che ho iniziato ieri quando ho messo quel post un pochino provocatorio in cui ho detto che prossimamente farò dei video specifici sulle 5 ferite in cui spiegherò anche come chi riconosce la sua ferita nell'ascoltare i miei video può trovare delle risorse e può decidere e può scegliere di percorrere la via della guarigione della propria ferita oppure può anche scegliere di continuare a raccontarsela questo post era volutamente un pochino provocatorio il motivo per cui ho deciso di farlo è perché quello che vedo, quello che ho sempre saputo peraltro e quello che ho notato anche su di me, sulla mia pelle è che quando si decide di intraprendere un percorso di crescita personale si attraversa necessariamente un periodo che alle volte è più complicato che poi ci porta sicuramente verso un periodo migliore della nostra vita in cui ci sentiamo più liberi, in cui ci sentiamo aperti verso gli altri in cui viviamo delle esperienze migliori in cui cambiano le nostre relazioni in cui comprendiamo tantissimo dei nostri modi disfunzionali di interagire con il prossimo e anche con noi stessi e in cui veramente la vita fa un click ma prima di arrivare a tutto questo c'è un periodo piuttosto tumultuoso che ovviamente non è uguale per tutti e che comporta dei rimaneggiamenti dei cambiamenti anche importanti nelle nostre vite e non tutti sono pronti per cui ci sono tante persone che apprezzano i miei video e ce ne sono molto poche che riescono a intraprendere un percorso e a modificare qualcosa della propria esistenza a partire a partire dal lavoro che si è svolto insieme e anche il lavoro che si svolge insieme di solito ha degli alti e dei bassi dei momenti in cui le cose cambiano positivamente e dei momenti di stagnazione e esplosione di quelle che vengono definite emozioni negative e la bravura di chi mi ha seguito sino in fondo nei percorsi e dopo qualche mese si è ritrovato veramente con la vita cambiata è stata quella di riuscire a credere quando io ho detto loro anche se questo momento è duro anche se le cose per le quali mi hai contattato sembrano peggiorate tutte quante insieme questo è un ottimo momento ed è un ottimo momento anche per lavorare perché se riusciamo a superare questa fase da lì in avanti potrai raccogliere i frutti del lavoro che stiamo facendo insieme naturalmente chi lavora da lontano in remoto e lavora soltanto con i fiori avrà un percorso magari un attimino più lungo ma un pochino più lieve dal punto di vista del terremoto emotivo che comunque c'è ve lo assicuro chi invece viene da me lavora di persona e lavora quindi con esercizi di bioenergetica con il lavoro corporeo e emozionale riattraversando quelle fasi in cui i blocchi si sono instaurati avrà un riverbero emotivo più intenso certo è che quando si creano le condizioni per poter lavorare insieme e questo di solito lo si vede dopo un paio di sessioni svolte o online oppure di persona le cose iniziano a prendere forma il percorso inizia a prendere forma e di solito qualcosa cambia fin da subito non necessariamente in meglio ma vi assicuro che qualcosa inizia a cambiare un classico è per esempio l'aumento delle percezioni di quello che si vive perché quando si fanno questi percorsi la via che si intraprende è quella di immergersi dentro di sé noi siamo abituati a chiedere all'esterno quando qualcosa non va nella nostra vita il percorso è creato ad hoc momento per momento e c'è un invito ad ascoltare le sensazioni collegate ai momenti che ci hanno portato nel blocco che vogliamo superare questo ovviamente lo si fa partendo da un dialogo in cui emergono quei punti sui quali si può lavorare la cosa importante è quella di sintonizzarvi sul vostro sentire ed è una cosa che è proprio alla base dei percorsi che io propongo è per questo che non è soltanto un parlare è un dialogo a volte è l'esecuzione di un esercizio di bioenergetica a volte sono io che mimo una scena e la persona che è venuta da me sta nell'ascolto del riverbero emotivo e questa situazione fa nascere dentro a volte capita addirittura che si lavora sull'albero genealogico perché molte delle emozioni che noi viviamo non sono nostre che sono state passate dai nostri antenati e chi ha lavorato con me lo sa l'esperienza di lavoro con l'albero genealogico è un'esperienza forte a volte noi crediamo di essere poco sensibili molte volte le persone che vengono da me dicono di non riuscire più a sentire e di avere la sensazione che la propria vita sia diventata piatta perché hanno rinunciato per esempio ad instaurare relazioni affettive a causa di delusioni passate perché hanno deciso di chiudersi anche alle amicizie sempre per qualcosa che è accaduto in passato o perché vivono dei problemi nell'ambiente di lavoro e non riescono a risolverli e a causa di questo il lavoro che per la maggior parte delle persone costituisce gran parte della giornata diventa un incubo perciò ho deciso di girare questo video perché chi si riconosce in una delle ferite e crede nel potere dei fiori di Bach e pensa che io potrei essere la persona giusta per iniziare un percorso abbia qualche elemento in più per capire cosa significa affrontare insieme a me un percorso di crescita che poi non è neanche un percorso di crescita è un percorso di rivisitazione emotiva dei blocchi che con l'aiuto sempre di un supporto floriterapico quindi dell'assunzione e anche dei fiori adatti può essere rielaborato e ci si può aprire alla comprensione di quali elementi noi abbiamo portato nella nostra vita per ritrovarci esattamente nel punto in cui ci troviamo ovvero la cosa importante è capire qual è il nostro pezzo perché noi siamo l'unica cosa che è il nostro potere cambiare per poter cambiare il nostro modo di reagire il nostro modo di porci e di conseguenza per poter cambiare la nostra energia noi dobbiamo rivivere quello che ci ha messo in chiusura quello che ci ha allontanato dalla vita altrimenti diventa difficile per non dire impossibile il nostro stesso cambiamento e quindi con il post che io ho messo sul canale in cui dico come possiamo smettere di raccontarcela post che spiego in questo video perché so che molti di voi non l'hanno capito e addirittura l'hanno anche avvertito disturbante come se io avessi lanciato un sasso in uno stagno voglio sicuramente parlare delle cinque ferite immaginando i cinque personaggi con ciascuna delle ferite nella loro vita quotidiana voglio portare la vostra attenzione sui luoghi comuni che caratterizzano ciascuna ferita in poche parole su come noi ci allontaniamo dalla nostra verità ed entriamo in una sorta di personalità non propriamente genuina che è quella che mostriamo agli altri che possiamo chiamare maschera che possiamo chiamare difesa ma che alla fine è un modo che noi abbiamo trovato per nascondere la nostra verità a noi stessi e agli altri e di solito è proprio questo modo che sta alla base dei nostri problemi esistenziali più grandi e quindi quando parlo di smantellare le difese parlo proprio di far cadere questa barriera arrivando a comprendere il modo in cui noi l'abbiamo costruita quando si porta avanti con determinazione pazienza attenzione a ciò che viviamo al nostro interno e vera volontà di cambiare le situazioni i risultati arrivano dopo un po' di tempo e per certi versi anche abbastanza velocemente per alcuni aspetti abbastanza velocemente se per esempio il vostro cruccio più grande è la solitudine in cui vi trovate in questo momento solitudine che avvertite sia quando lavorate che quando siete nei momenti di svago perché non riuscite a trovare complicità per esempio nelle amicizie può capitare che ci voglia un po' più di tempo per iniziare a investire di nuovo in una relazione sentimentale per aprirsi quel tanto che basta a incontrare una persona con la quale sia possibile instaurare un rapporto sentimentale bello appagante ma può essere che nel giro di poco tempo voi scopriate che ci sia un cambiamento di come le persone si relazionano a voi frutto del lavoro che state compiendo e quindi che possiate trovare più piacevole la relazione con le altre persone con i vicini di casa con i colleghi di lavoro e che vi troviate e che questo vi faccia sentire meglio nel giro di poco tempo poi dipende il percorso è così individuale e così diverso per ciascuno perché stiamo parlando di un percorso interiore che non si possono fare previsioni perché è da vivere momento per momento la cosa più importante che scoprirete in questo viaggio sarà la possibilità di riconoscere e vedere sempre di più e sempre meglio il modo in cui agite le vostre difese nei rapporti con gli altri purtroppo qui c'è sempre qualche motore che rompe le scatole quando faccio i video dovrei andare in cima a una montagna ma purtroppo non è possibile e quindi come dire la vera ricchezza che ciascuno di voi che sperimenta un percorso si può portare a casa è quella di comprendere nel dettaglio la famosa frase che viene detta sempre e cioè che tutto dipende da noi ma è vero anche che se nessuno srotola la matassa nella quale noi stessi ci siamo aggrovigliati se nessuno ci aiuta a trovare il bandolo è molto complicato cambiare la nostra vita e diciamo che questo bandolo è un po' la cosa da cui parto la cosa che cerco quando inizio un percorso con ognuno di voi che me lo chiede questo bandolo può essere anche la ferita quella che voi stessi avete riconosciuto o quella che io vi porterò a riconoscere durante il percorso che compieremo insieme molte volte siete consapevoli di una ferita e non ne vedete una più importante questo dipende dal fatto che io ho un certo allenamento con le ferite e il percorso con i fiori di Bach anche quello è molto illuminante quando si inizia un percorso a distanza perché mi porta proprio a diretto contatto a seconda dei fiori che emergono sia durante il colloquio che durante il test di rasestesia che io pratico sempre si evidenziano proprio degli aspetti che io non potevo vedere e comunque sì ogni ferita ha un modo tutto suo di raccontarsela e produrrò dei video dedicati alle cinque ferite in cui parlerò dei differenti modi con cui se la racconta chi ha la ferita da rifiuto rispetto a chi per esempio ha la ferita da tradimento e questo può essere per voi un'ulteriore occasione per comprendere meglio le vostre ferite questo video che è stato improvvisato termina qui ma so che molti di voi lo troveranno interessante per cui vi mando un grande abbraccio questo video ha senso proprio come seguito al post che io ho messo ieri e vi spiega cosa significa portare avanti un percorso di consapevolezza con i fiori di Bach e con il metodo corporeo emozionale che sono i due pilastri del mio counseling vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento nei prossimi video ciao